Ad annunciare a Teramo nella sede del Ruzzo l'arrivo di un finanziamento di oltre 30 milioni di euro per opere di depurazione e implementazione dell'acquedotto Teramano è stato il governatore Luciano D'Alfonso, davanti a una platea di sindaci, imprenditori del turismo e associazioni di albergatori. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente del Ruzzo, Antonio Forlini. Il presidente D'Alfonso ci ha finalmente formalizzato, almeno verbalmente, l'arrivo di 32-33 milioni di euro per il completamento del terzo lotto del potabilizzatore, cioè la realizzazione di una conduttura che collegherà finalmente il potabilizzatore alla linea litoranea. Come ha visto la partecipazione dei sindaci nell'incontro di ieri? Ma anche da questo punto di vista sono molto soddisfatto perché continua a esserci, come già capitato nell'ultima assemblea dei sindaci a luglio, un'assoluta unità di intenti e il superamento di quelle che sono le barriere storiche centrodestra e centrosinistra. I sindaci hanno a cuore il territorio e quindi hanno capito che in questo momento Ruzzo Retti è per loro un patrimonio che può dare valore al territorio. La costa teramana potrebbe quindi vedere la fine del problema della carenza idrica che ogni anno affligge residenti, turisti e albergatori, soprattutto nel periodo estivo. È evidente che ci vorranno almeno un paio d'anni perché l'opera possa essere realizzata, però noi abbiamo intanto individuato delle operazioni che nel breve periodo, già per il prossimo anno, io mi auguro possano scongiurare le criticità degli anni scorsi o quantomeno ridurre al minimo. Quindi interventi tampone, in attesa che questo investimento possa partire, completarsi in un paio d'anni. Quindi io auspico che l'estate del 2017, che sembra lontana ma poi in fin dei conti non lo è poi così tanto, sia l'estate della svolta. Si è parlato, si è discusso della situazione dei debiti del Ruzzo? No, ieri in realtà abbiamo parlato essenzialmente dei nuovi investimenti, quindi abbiamo avuto una proiezione più sulle risorse che arriveranno che non tanto sui debiti del passato. I debiti ci sono, sono lì, non è che possiamo negarli, però credo che lo stesso piano industriale e quindi la revisione dell'eventuale piano d'ambito prevedono una modalità attraverso la quale questi debiti, seppur lentamente negli anni, possano essere gestiti e quindi scendere.